di stress per i ragazzi. Non potrebbe essere invece un elemento per cui i nostri studenti vanno a scuola felici. Il comitato di valutazione non valuta, il comitato di valutazione stabilisce dei criteri, criteri che quindi serviranno per poter valutare, in questo termine sì, in che modo confrontarsi all'interno della scuola per la cosiddetta vicenda dei 200 milioni della premialità. Qui non stiamo parlando della valutazione dei docenti, ma stiamo parlando di un sistema che ogni scuola attuerà sempre nell'ottica dell'autonomia e della libertà e che farà in modo davvero di trovare quelle che possono essere le metodologie migliori per segnalare il lavoro ottimo fatto dai docenti che spesso si trovano in trincea e in barricata. Questo è il significato del successo formativo, questo è il significato di una scuola che funziona. La ringrazio, deputata. Allora, nessun altro chiede di intervenire? Dunque, dichiaro aperta la votazione sull'1.101. Parere contrario, Commissione-Governo, favorevole dei due relatori di minoranza. Migliore? Buonafede. Buonafede. Chi altro? Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli, 116. Contrari, 284. La Camera respinge. Siamo all'emendamento 1.112. Gelmini. Pareri sono tutti contrari. Deputata Palmieri, prego. Grazie, gentile Presidente. Solo per aiutare i colleghi a fare mente locale. Qui siamo in quello che nella prima lettura era l'articolo dedicato allo school bonus. E allora, siccome noi, come ho detto in quella occasione, nel primo passaggio che è la Camera, siamo convintamente favorevoli all'implementazione di questa norma, che è una norma, a nostro avviso, di sussidiarietà vera, che coinvolge la comunità e coinvolge chi può dare di più a dare nei confronti della propria scuola, per questo motivo, in questo emendamento, noi votiamo per, invitiamo a votare e votiamo per sopprimere il tetto dei 100 mila euro che è stato introdotto al Senato. Grazie. Ringrazio il deputato Palmieri. Allora, ci sono altri che vogliono intervenire?